Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Sono particolarmente contento di parlarvi di una risorsa che, mi onoro di dire, utilizzo dalla prima ora e questa risorsa si chiama Canva, con la N di Napoli. Questo videocorso era in cantiere da qualche tempo perché è una risorsa veramente tra le più trasversali che io conosca. Si può utilizzare dalla scuola dell'infanzia sino all'università senza colpo ferire. Vi debbo anche dire che una delle cose che mi ha, diciamo, mosso a proporvelo ora è, oltre all'indubbia efficacia, pensando all'imminente esame per il fine ciclo, quindi l'esame di terza media per la secondaria di primo grado, per chiarire, dato che in tempi di didattica a distanza a volte si genera qualche confusione, che Canva non nasce ora intanto, ma nasce nel 2012, e che Canva è trasversale applicato alla didattica, ma nasceva ed è utilizzato anche nei settori del web design e della comunicazione e marketing, perché come vedremo permette di creare grafiche per il web e i social media, e lo dico volutamente alla latina, quindi i mezzi di comunicazione, crea banner, cioè i cosiddetti striscioni, che possono essere utilizzati sempre in ambito web e non solo, un sacco veramente di pubblicazioni efficacissime e accattivanti. Per utilizzarlo la prima volta, apriamo Canva con il nostro browser, quindi con Google Chrome, sito di riferimento canva.com, la prima volta clicchiamo su iscriviti, ecco qui, prima volta su Canva iscriviti. Utilizzeremo sia un account Gmail personale, che un account G Suite, dunque scolastico, oppure un indirizzo email di terza parte. Chi come me appunto ne fa un utilizzo storico, in questo frangente, clicchiamo intanto su ok per mandar via il consueto rettangolo sui cookies, andrà, vi dicevo, su accedi. E andando su accedi, ecco che ci viene appunto chiesto con quale account entrare. Io utilizzo un mio vecchio account del fornitore libero, quindi vado ad inserire i miei dati e vi farò proprio vedere alcuni dei lavori che abbiamo fatto nel tempo durante i miei corsi in presenza di formazione docenti e con gli alunni. Guardate, ora scorro. Intanto vi anticipo che Canva salva in cloud, si dice, cioè i lavori svolti con Canva restano salvati dentro Canva per il riutilizzo. Nel momento in cui li custodiamo all'esterno andranno poi esportati. Guardate, io scorro dove ci sono, c'è la dicitura i tuoi progetti, peraltro anche a sinistra troviamo tutti i tuoi progetti, e scorrendo tra i miei vari, insomma, numerosi lavori svolti con Canva. Vi vado a prendere. Ecco, guardatene alcuni proprio di spendita veramente scolastica. L'alfabetiere, scuola dell'infanzia, parole con scritte in maiuscolo, scritte in minuscolo, disegno illustrativo e simbolo. Invito alla recita di Natale, scuola primaria. Ancora, diploma. Quindi un diploma per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e così via. Inoltre, lo dico ai ragazzi ma anche ai colleghi, a patto di utilizzarlo bene, è possibile creare, ne vedete alcune di miei convegni, insomma, e di seminari, proprio presentazioni accattivanti. Qui siamo oltre il software proprietario Microsoft PowerPoint ed il software libero LibreOffice Impress, a mio giudizio, in termini proprio di estetica e di disegno. Allora, vi mostro proprio un'ipotetica presentazione. Tanto osserviamo, torno in cima alla pagina, che partiamo cliccando crea un progetto. Poi abbiamo qui a disposizione, vedete, tutte le categorie che Canva è in grado di offrirci. Ricordate che, come ho spiegato, nasce per esigenze di web design e marketing, quindi abbiamo anche alcuni modelli come newsletter, ma possiamo creare un calendario personalizzato con le foto e molto altro. Vado a ricercare, nel nostro caso, guardate, lo trovo sia qui da cliccare, ma potrei anche digitare presentazione. Io clicco. Tengo il mio volto non del tutto a sinistra, così abbiamo modo di guardare l'area di lavoro e le scelte che Canva ci offre. Ecco le possibili presentazioni, divise naturalmente per categoria. Attenti, controllare sempre che non ci sia alcuna dicitura di possibile pagamento, perché Canva è una risorsa free, anzi, freemium. Free per la gran parte gratuita dei suoi elementi, freemium nel momento in cui utilizziamo alcuni elementi grafici, oppure alcune funzionalità, e ci verrà sempre detto. Allora, intanto, dove troviamo progetto senza titolo, io vado a cliccare e vado a digitare ora, per non dimenticarmi, tesina, so che il termine di alcuni colleghi disturba, ma insomma così ci capiamo, tesina, antisemitismo, cartotto. Immaginando di parlare della seconda guerra mondiale, del tema dell'antisemitismo, l'arte e così via. Allora, prendiamo una presentazione di esempio. Naturalmente, cliccando su Vedi tutto, nella categoria presentazione semplice ho dei modelli da poter poi rielaborare, quindi smontandoli e non solo. Allora, vediamo un pochettino un modello che possa fare al caso nostro. Intanto diamo anche qualche informazione su come si faccia in maniera corretta una presentazione. Per esempio, ma sì, clicchiamo su questa presentazione il cui nome è Marketing Strategy, oppure addirittura su questa, sui toni del blu, e poi andiamo a vedere come intervenire. Allora, abbiamo, se osserviamo, la presentazione articolata nelle sue pagine. In questo caso, 25 possibilità. Attenti bene, ma intanto cominciamo con una. Clicc. Attenti, troviamo sia presentazioni in questo formato lungo e stretto, 16 noni, formato panoramico, che presentazioni nel formato un po' più quadrato, il 4 terzi. Anche quello è a gusto, forse un formato 4 terzi è ancora più adattabile a diversi contesti. Bene, vi dicevo che l'andiamo a personalizzare. Io simulo di essere un alunno di terza A. Ok? Quindi, mi può piacere di massima la copertina così fatta. E vi dico di più, se mi piace la copertina, potrei anche pensare poi di utilizzare questa pagina come modello. Allora, andiamo intanto a scriverci un pochino dentro. Click. Canva si basa sul principio degli elementi mobili e modulari. Il funzionamento è click, cancello, scrivo. Oppure click su un elemento e poi bidone in alto a destra per eliminarlo. Se è testo, io in alto ho i pulsanti di formattazione del testo. Su Canva, in base a dove clicco, vedo solo quegli strumenti di utilizzo lì. Allora, il Technology and Theory, clicchiamo, andiamo col nostro tasto Backspace, quello sopra l'invio, la gomma, a cancellare. Ed andiamo a digitare, per esempio, Andrea Cartotto, terza A. Ok. Poi, il nostro titolo, click. Andiamo a rimuovere l'antisemitismo. E questo potrebbe essere il sottotitolo. Per cui vado a cliccare, percorso, multi, disciplinare, eccetera, eccetera. Per cui, io qui vado a inserire, quindi nella mia copertina, eventualmente una immagine a corredo, titolo, nome dell'autore, eventuale dettaglio. Nelle presentazioni la regola consueta è poco testo, ben definito, talvolta elenchi puntati di modo da poterli commentare e immagini esplicative. Soprattutto lo stesso modello grafico per ogni pagina della presentazione e che in ogni pagina ci sia preferibilmente il richiamo al titolo e il nome dell'autore. Coerenza nelle presentazioni. Allora, l'antisemitismo, percorso multidisciplinare. Vi mostro subito come inserire una immagine che parli, insomma, della tematica trattata. Le immagini personali si caricano con un click in basso a sinistra su caricamenti, pulsante nuvola. Canva è meraviglioso perché ha una libreria, uno storico delle immagini in precedenza caricate, che posso poi al bisogno riutilizzare. Se è un caricamento nuovo, clicca su carica un'immagine o un video. Ora vado a cliccare sulla mia cartellina dei download e avevo precedentemente scaricato una immagine dedicata a un dipinto che ben si inquadra nel periodo storico di riferimento che è la crocifissione bianca di Marc Chagall. Clicco, clicco su apri. L'immagine va prima nella libreria di Canva, poi con un click si posiziona sull'area di lavoro. Tramite le maniglie di ridimensionamento, che sono questi pulsanti rotondi, tengo premuto, vado a ridurla o ingrandirla con le proporzioni sempre fatte salve, per cui le mantengo. Clicco, la sposto in questo caso con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto. Ed ecco la mia copertina. La perfezione in questo caso è quella ad esempio di riportare, lo diciamo tra noi ed anche i ragazzi, la fonte, le fonti anche dell'immagine. Allora o adottiamo il criterio di avere in fondo a Canva una unica bibliografia e sitografia, oppure, tanto per avere l'occasione di mostrarvi come si inserisce un testo, io a sinistra barra degli strumenti in colonna, clicco sulla T di testo, scelgo una grandezza indicata, corpo del testo la più piccolina, clic, ecco la mia casella di testo, tasto sinistro del mouse premuto la vado a spostare, direi di posizionarla in parallelo qui. La meraviglia di Canva è che se andate piano potete anche osservare apparire i righelli in viola per cui vado ad allineare gli oggetti in una maniera adeguata. Queste sono le lezioni da fare ai ragazzi, e lo dico da tempo, per far maturare vere competenze digitali. Questa è l'informatica da poter svolgere nella scuola. A questo punto vado ad inserire il descrittivo, cioè la fonte della mia immagine. Eventualmente la casella di testo la allungo un pochino con il tasto sinistro premuto, poi vado a verificare, ecco, vedete questa immagine l'ho presa dal sito interris.it. Facciamo una citazione della fonte semplice, per cui in realtà magari non con grandezza 34, lo osserviamo qui in alto, quindi con un corpo di grandezza ribassata, ad esempio un 16, oppure se è troppo piccolo un bel 18, andiamo a cliccare e a mettere fonte due punti, www.interris.it. L'importanza di citare le fonti. Questa immagine non è nostra, la citiamo avendo verificato di averne i permessi, certo ci fosse stato scritto non utilizzabile per uso didattico e commerciale, ne avrei dovuto cercare un'altra, ma questa è sempre una buona regola. Ecco, generiamo una nuova pagina. Io clicco su aggiungi una nuova pagina, lo vediamo subito qui sotto, e questo è il modello, cioè la coerenza legata alla pagina. Allora, in realtà, cosa posso fare qui? Intanto vi mostro, noi eravamo su modelli, vedete, ricordate, modelli, che avevamo i nostri modelli di pagina. Se io voglio semplificare la vita, ad esempio, qua voglio inserire una definizione dell'antisemitismo. Ecco, io mi posso scegliere per pagina 2 un modello che rispecchi il contenuto che a me interessa. Per cui vado in questo caso a inserire, guardiamo, clicco, cancello, definizione di antisemitismo, e poi, in questo caso, con una operazione di copia e incolla con citazione, non per fare meno lavoro, ma per riportare una definizione fedele, volutamente non ho preso Wikipedia, ma in questo caso, ad esempio, ho preso trecani.it, quello che io considero un porto sicuro per la nostra lingua e per le ricerche. Ho ricercato come parola chiave antisemitismo. Vado a fare un piccolo estratto, naturalmente. Ecco qua, in seguito alla formazione della Seroma Berlino, si è bella dichiarazione della razza, sottoscritta, eccetera, eccetera. Allora, come citazione, ripeto, e quindi tasto destro, copia, poi torno sulla mia tesina, clicc, scusate, ecco, non era voluta, ve lo garantisco, ma se mi sbaglio, come faccio a tornare indietro? Guardate, in alto a sinistra, freccia ricurva, annulla e passa qualsiasi tipo di paura, ok? Sono questi gli aspetti che è importante conoscere. Vado a cliccare, appare il mio cursore, è chiaro su scuro, è piccolo ma si vede, cancello piano piano, tasto destro in questo punto, tasto sinistro su incolla ed ecco il mio testo. A questo punto però devo andare a raffinarlo. Intanto seleziono appunto il mio testo, corpo 32 è francamente un pochino eccessivo, direi magari un corpo 24, tanto per avere un orientamento migliore. Poi vi ho detto dell'importanza della citazione delle fonti, per cui dopo ebrei faccio un clic, invio, invio, vedo due volte a capo, citazione da tre cani antisemitismo. Ideale sarebbe, lo trovate in un mio videocorso sempre qui sul canale Trainer Andrea, la citazione della fonte con il servizio Bitly, che serve per accorciare i links. Così posso proprio citare esattamente questo url, trecani.it slash enciclopedia slash antisemitismo. Ora vedete che la nostra presentazione prende forma. Pagina 1, pagina 2, ma vi ho mostrato l'alfabetiera di inizio videocorso per l'infanzia, ma vi ho mostrato il diploma per la primaria e secondaria di primo grado. A voi, come sempre, la prova su strada. Ora, mentre ci siamo, io in questo caso andrei a riportare, ad esempio, ve ne parlavo prima, una banda in fondo nella quale inserire sempre il nome dell'alunno, la classe, il titolo. Allora, ritorniamo un po' sulla T di testo. Prendiamoci questa volta, se vogliamo, una grandezza sottotitolo. Clicco, prendo, sposto sempre con il trascinamento, mi posiziono in questo punto, clicco e vado a scrivere. Cancelliamo per bene il testo di troppo. Allora, posizioniamo bene il nostro cursore, cancelliamo piano lettera per lettera e digitiamo Andrea, cartotto, trattino, terza trattino l'antisemitismo. Non vi preoccupate, non è scomparso nulla, siamo solo andati sotto, per cui ora vado sulla mia maniglia laterale, queste sono le maniglie di ridimensionamento, tengo premuto il tasto sinistro e non appena io stiro la casella di testo, ecco che la casella di testo si palesa davanti ai miei occhi. Tengo premuto il tasto sinistro, seleziono, eventualmente qui vado a dare un corpo francamente più piccolo di 52, quindi magari scelgo un 32 che diventa più ragionevole. Con il pulsante che vediamo in alto nella barra degli strumenti, allineamento, io al clic vado a variare allineamento a sinistra, al centro, a destra, ed il giustificato. Io direi che, come di consueto, la nostra firma la posizioniamo in basso a destra, ok? Ecco, perché vi ho voluto mostrare questo? Perché adesso, volendo poi in un'altra pagina, e lo vado a fare così aggiungo un'immagine, oppure un altro contenuto, volendo ribadire Andrea Cartotto Terza A, l'antisemitismo, io farò un copia e incolla. Guardiamo insieme come. Io clicco su aggiungi una nuova pagina, clicco, ecco, allora andiamo su modelli, posso per ogni pagina, ma vedete che il template, cioè il modello, il tono del blu resta sempre lo stesso, posso andare a variare l'impianto interno. Ora, se parlo di arte e immagine, magari mi può venire bene un modello di questo tipo, così qua inserisco un'opera e a destra la commento. Bene, se io volessi ribadire Andrea Cartotto Terza A, guardate, un clic, stop, a questo punto andiamo ad esaminare un po' i pulsanti che ci servono, guardate qui in alto, noi li abbiamo tutti, duplica, clic, il duplica sta per copia, io prendo il mio elemento, trascinando con il mouse, lo porto nella mia posizione desiderata, lo lascio e lo ho. Addirittura, se io avessi mantenuto un fondo blu neutro, neutro per tutte le pagine della presentazione, presa la seconda pagina, copertina eccettuata, facendo, guardate, utilizzando questo pulsante che si chiama copia pagina, avrei generato delle fotocopie fedeli e avrei automaticamente avuto il modello già pronto della mia presentazione. Quindi ribadisco un attimo, clicco qua sul mio testo, questo non lo desidero, per cui clic sul bidone, ok, rifacciamolo ancora, clic, questo è un elemento non desiderato, clic sul bidone, elimina elemento o elimina gruppo? Se clicco elimina elemento, mi va via solo la parte sopra, con elimina gruppo avrei fatto piazza pulita di tutto il resto. In questo caso nuovamente premo o il bidone o il tasto canc, tasto canc della tastiera. Allora, l'immagine abbiamo visto come si inserisce, per cui era la nuvoletta, caricamento, ecco qua la nostra crocifissione bianca di Chagall, tasto sinistro e la sposto qui, ok? Poi qui a destra riporterei naturalmente l'autore, Marc Chagall, sotto vado a descrivere, crocifissione bianca, l'anno, eccetera, eccetera, ok? Quindi andiamo a posizionarci, crocifissione bianca e poi un descrittivo, magari breve, commento l'opera, per cui scelgo un testo con un corpo minore e descrivo bene la mia opera. Canva ci permette, ed è questa la forza, cliccando sul pulsante elementi, di arricchire ulteriormente il nostro elaborato, ad esempio con che cosa? Con icone e forme di libero utilizzo. Vediamo un po', per parlare di Chagall, quindi arte, potrebbe essere interessante una icona a forma di pennello, guardiamo se c'è, pennello invio. Allora, andiamo a vedere. Ecco, con pennello abbiamo un po' la simulazione del tratto del pennello. Ciò che è con la corona fa parte della famosa versione freemium, di cui vi parlavo, può avere un costo. Noi cerchiamo sempre ciò che ha la dizione gratis, idem per gli alunni. Vediamo un pochettino. La parola chiave pennello, magari non va bene per ciò che occorre, potremmo prendere un altro tipo di elemento, e quindi invece che pennello, proviamo a digitare paint, invio. Vediamo un po'. Ecco, questo è gratis per esempio. Click, guardate che bello, maniglia di ridimensionamento, la sposto, tasto sinistro del mouse premuto, io posiziono la mia tavolozza qui. In questa maniera sviluppiamo noi e facciamo sviluppare agli alunni una vera competenza digitale, perché Canva è meraviglioso, perché ci invita a dialogare con la web application di riferimento che è appunto Canva. Per elementi si intendono elementi grafici, cioè disegni in questo caso si dice anche vettoriali, nel senso che non perdono la loro qualità diventando grandi o piccoli. Poi abbiamo a disposizione griglie, cioè elementi per dividere una pagina intera in sezioni, forme geometriche, cornici all'interno delle quali inserire le foto, adesivi e quant'altro. Ecco, la scoperta degli elementi di Canva, troviamo anche le immagini libere da licenza, e quindi royalty free si dice, libere cioè dal diritto d'autore. Ecco, io qui vado veramente ad arricchire il mio lavoro. Quando ho terminato, faccio questo. Allora intanto per prudenza, tanto se manca l'energia elettrica, dunque la corrente, il mio lavoro è salvato qui, io posso cliccare comunque su file e posso eventualmente dirgli salva, così per una tranquillità. Ma in realtà lavoro terminato, ve ne ho parlato prima, si va su questo pulsante, che è la freccia rivolta verso il basso, clic, scarica e scelgo una delle opzioni corrette. Se parliamo di una presentazione, io suggerisco di utilizzare PDF standard, e va molto bene per la maggior parte dei casi, o PDF stampa sapendo che lì avrò una maggiore qualità e risoluzione, ma un pochino più di peso. Io ora lascio PDF standard, ok? Scarico tutte le pagine, sì, perché voglio tutte e tre le pagine della presentazione, clic su scarica, attendiamo il processo di elaborazione, a questo punto ci chiede dove salvare, io salvo tesina antisemitismo cartotto nella mia cartellina dei download, perfetto, clicco su X in questo riquadro di suggerimento di un periodo di prova di Canva Pro, il mio lavoro è terminato, terminato. Per tornare all'indice, dunque la prima pagina di Canva, io andrei a cliccare su Home, e poi su tutti i tuoi progetti, naturalmente vado a trovare tesina antisemitismo cartotto. La riapro qui in basso a sinistra nel mio browser per farvi vedere com'è una volta scaricata, qui la stiamo vedendo, attenzione, internamente al nostro browser, in realtà se è un formato PDF, leggiamolo sempre da un apposito lettore, che si chiami Adobe, Adobe Reader, o che si chiami Sumatra PDF, è meglio. Ed ecco qui la nostra presentazione in formato 16 noni, come vi spiegavo, cioè panoramica, bella orizzontale, definizione di antisemitismo, Marc Chagall crocifissione bianca. Ecco come abbiamo preso una web application nata a suo tempo non squisitamente per la didattica, e l'abbiamo fatta divenire trasversalmente un nostro alleato. Vi ringrazio anche in questo caso per l'attenzione, a voi questo strumento meraviglioso, ed ancora buon pomeriggio, ed un caro saluto da Andrea Cartotto con l'appuntamento al prossimo videocorso.